Una grande occasione persa per la città, dice l'ex assessore Venanzi che definisce fallimentare il bilancio del comune di Euro Under 21. Incontro a porte chiuse con i militanti del movimento per il vice premier Di Maio. Saremo in diretta da Palmanova. È sotto traccia ma la mano della mafia in regione c'è, la DIA conferma nella sua relazione sotto la lente i porti, il commercio e lo sfaccio di droga. Tra oggi e domani le centinaia di ippi a tramonti dovrebbero sgomberare ma i cittadini non condividono la linea del sindaco. L'Udinese domani giocherà contro il Ravenna, squadra di Serie C inizio alle 18.30 diretta dalle 18. Cristo Gonzales ha firmato per 5 anni. Buonasera a tutti voi e benvenuti all'appuntamento con l'informazione in diretta di Ud News TV. Buonasera anche a Davide Zanirà. Buonasera a te Valentina. Allora abbiamo annunciato nei nostri titoli in apertura la visita del vice premier Luigi Di Maio in regione, in particolare a Palmanova. Una visita dedicata ai militanti a porte chiuse, una visita che però assume toni particolari in virtù della situazione del governo a Roma. Ne parliamo con Monica Nardini e con il suo ospite che si trova proprio a Palmanova in attesa dell'arrivo di Di Maio. A te Monica, buonasera e ben ritrovata. Esattamente buonasera e ben ritrovati. Sono in compagnia del consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Cristian Sergo in attesa, come gli altri rappresentanti che stanno arrivando, gli attivisti dell'arrivo di Luigi Di Maio previsto per le 19.30 qui all'auditorio Un San Marco di via Scamozzi a Palmanova. Di Maio ha avviato una serie di incontri a livello regionale con gli attivisti e i portavoce locali per riorganizzare il partito, per vedere come rilanciarlo. Ci riassuma brevemente le finalità? Sicuramente per avere un'organizzazione migliore che possa dare anche maggiore spinta a quella che è la forza di governo del Movimento 5 Stelle a Roma. Le finalità sostanzialmente sono queste, poi è cercare il modo di far arrivare le problematiche anche dei singoli comuni a livello governativo, laddove ci dovesse essere bisogno di un interessamento del governo. È chiaro che molto è stato fatto finora anche grazie al lavoro dei portavoce, consiglieri regionali, consiglieri parlamentari e anche gli eurodeputati, però chiaramente si vuole dare ancora più forza a tutto questo trovando delle persone che si vogliono mettere ovviamente in gioco anche per fare questo tipo di lavoro per il Movimento. Sono 180 almeno gli iscritti all'incontro di oggi, si parlerà anche di questa figura dei facilitatori che è stata lanciata da Luigi Di Maio, che cosa consiste? Come dicevo prima, sostanzialmente coordinare quelle che sono le attività del Movimento, rendere il Movimento anche riconoscibile e quindi anche tutto il lavoro che facciamo ovviamente noi qui come portavoce in regione, nei portavoce comunali e in tutte le istituzioni dove siamo, fare in modo che ci sia anche un'interlocuzione con quelli che sono gli stakeholder della regione. Noi qui abbiamo sempre anche un gap che è quello che il nostro candidato presidente non viene mai eletto in consiglio regionale per una legge regionale veramente barbara che abbiamo solo in regione. Speriamo anche di poter modificare questa da qui al 2023, sarebbe già un aiuto anche per tutti noi per avere quelle persone poi sempre più conosciute ovviamente anche per i nostri elettori a cui fa riferimento. Cristian, niente diretta Facebook, non è possibile documentare nei giornalisti anche con delle riprese quanto avrà all'interno, si prevede una serata abbastanza lunga anche in cui Di Maio ascolterà quindi tutte le problematiche? Ma di solito sì, c'è un grande ascolto da parte del capo politico, in questo caso Luigi Di Maio e chiaramente poi tutto quello che verrà detto anche agli attivisti servirà anche a noi perché ovviamente non serve solo a lui. Velocemente il momento è delicatissimo, oggi Di Maio ha detto escludo una crisi politica, ma insomma a toni più concilianti ha richiesto un incontro chiarificatore anche con Salvini, l'ha accettato, ma insomma l'attenzione resta alta. L'attenzione resta alta, è chiaro che le differenze tra le due forze politiche ci sono, ci saranno sempre, bisogna trovare una sintesi, il ruolo del premiere è ovviamente stato individuato anche per questo, il contratto di governo aiuta a fare questo. Noi abbiamo sempre avuto fiducia in quello, in quello che prevede il contratto, in quello che prevede quello che abbiamo deciso ormai un anno fa e vedremo ovviamente quello che succede a Roma. Vedremo anche se riusciremo a avvicinare il vice premier, sarà molto difficile, noi ci proveremo, vediamo se ci rilascerà anche un commento sulla situazione nazionale. Grazie Cristian Sergo, a voi la linea. Grazie Monica, terremo il collegamento aperto per vedere se riusciamo ad ascoltare le parole di Luigi Di Maio a Palmanova, comunque ci ricollegheremo più tardi. Adesso Davide, torniamo all'Euro Under 21, torniamo all'organizzazione delle comune di Udine, in particolare per le attività a corollario della manifestazione. Una nuova polemica quest'oggi dopo la pubblicazione del bilancio dei fondi spesi dal comune proprio per la città in occasione dell'evento. Un'occasione mancata secondo molti, visto che il comune doveva occuparsi solamente della promozione dell'Euro Under 21, grazie anche alla disponibilità delle strutture messe a disposizione da Udinese Calcio. Sentiamo il servizio. Improvvisazione, tutta un'azione amministrativa e le Under 21 sono stati un esempio abbastanza eclatanti. 300.000 euro spesi senza alcun riflesso sul futuro delle attività commerciali di Udine. Gli europei Under 21 per molti sono stati un'occasione persa per dare visibilità a una città che avrebbe potuto farsi conoscere all'estero da paesi che difficilmente guardano al Friuli Venezia Giulia. Una grande occasione persa per la città per riuscire a attrarre persone che solitamente qui non gravitano e riuscire a veicolare un brand che si chiama Città di Udine. Sono stati spesi circa 300.000 euro per allestire per la città, per fare attività ed eventi e credo che la qualità di questi ultimi l'abbiamo percepita tutti. Abbiamo visto tutti che la città in quei giorni era vuota. Con la pubblicazione delle cifre spese per l'organizzazione degli europei Under 21 scoppia di nuovo la polemica su come è stato gestito l'evento. Anche Agenda Europea su Udinese TV aveva stimolato l'amministrazione comunale a prepararsi per tempo così da sfruttare le potenzialità degli Under 21 a Udine. L'immagine del megasesmo in Piazza Libertà con uno spettatore è l'immagine che abbiamo tutti noi di questo europeo. Io spero veramente che i soldi pubblici vengano spesi in maniera più oculata, intelligente e soprattutto con una linea ben chiara. Basta pensare ai 10.000 euro per l'orologio countdown in Piazza Matteotti, basta pensare ai 45.000 euro spesi per il noleggio di un track, basta pensare ai 40.000 euro per le bandiere che abbiamo visto appese per la città. Gli eventi e il target al quale puntavano gli eventi erano un po' più alti rispetto a quello che caronicamente dovevano intercettare un pubblico di Under 21. Penso ai ricchi e poveri, penso a René che insomma con tutta la simpatia e la stima che possiamo avere, sono artisti che non solo non richiamano un grosso numero di pubblico ma soprattutto non richiamano quel target di pubblico. Il comune di Udine non ha avuto spese sul fronte delle strutture, visto che la Dacia Arena era già perfettamente in grado di ospitare adeguatamente l'evento. Avere 6.000 persone in una partita in uno stato di 25.000 non so mica se è un successo. Dobbiamo riuscire ad attrarre un pubblico che solitamente non gravita per questi territori qua, ma per fare questo bisogna muoversi, noi città di Udine, andare fuori a venderci, non pensare che avvenga il contrario. Questo allora il commento del consigliere comunale Alessandro Venanzi, adesso cambiamo argomento e parliamo della relazione della DIA, parliamo della mano della mafia in regione, l'avete sentito dai titoli, ci sono ancora, anzi crescono le infiltrazioni, Davide, in Friuli Venezia Giulia. Sì Valentina, perché è stata pubblicata proprio oggi la relazione semestrale della antimafia a livello nazionale con i dati per il secondo semestre 2018, ebbene le attività economiche in Friuli anche per l'anno scorso in un momento di generale crisi hanno comunque visto una crescita, e il territorio, scrivono dalla relazione della direzione investigativa antimafia, appare evidentemente esposto all'interesse delle consorterie criminali che avendo a disposizione ingenti capitali da investire frutto di attività illecite, vedono nelle aree a maggior vocazione imprenditoriale un punto d'approdo. A livello territoriale, nel dettaglio, vengono segnalate per esempio i casi alla provincia di Udine, dove nel corso degli anni la presenza di soggetti collegati alla camorra attivi nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento, talvolta mediante anche la costituzione di società utilizzate per schermare altre attività illecite, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti. Anche la provincia di Porrenone ha mostrato da tempo diversi interessamenti da parte delle consorterie mafiose, si legge ancora nella relazione, e nel Goriziano si contraddistingue per le importanti attività commerciali per i cantieri navali di Monfalcone. E infine anche preoccupazione viene espressa per quanto riguarda i continui rintracci sul fronte del confine con la Slovenia. Torneremo dopo a parlare di inchieste e di cronaca. Adesso ci spostiamo a Tramonti in montagna. Gli abitanti sono contro la decisione del sindaco presa ieri relativa allo sgombero del campeggio Rainbow, il camping, il raduno spontaneo per dire il vero hippie che si svolge nella località da qualche tempo. Si sono sempre comportati bene, una decisione politica dicono i paesani che danneggia il territorio e sono tutti compatti. Ascoltiamolo. Lei da dove arriva? Provincia di Piacenza. Per lei è la prima volta? No, sono tanti anni che vengo, sì sì, ho cominciato nel 92, è la prima volta in Norvegia. Abbiamo visto auto, furgoni, camper provenienti un po' da tutta Europa. Sì, normalmente queste cose qua attirano persone di ogni, sì, praticamente la lingua ufficiale è l'inglese perché c'è un incontro qua delle culture e delle lingue, sì, è normale questo. Arrivi da Roma proprio per questo raduno hippie e avete trovato questa brutta sorpresa dello sgombero. Eh sì, ieri, però io sono arrivata ieri perciò diciamo non so tanto, però credo che non ci sarà nessun sgombro. Io sono arrivato ieri notte, non so niente di notizie fresche, però qua avrebbero dovuto dare addirittura in concessione un terreno e proprio perché c'era stato questo connubio, questa corrispondenza di proprio personalità. Loro vennero conquistati perché noi due anni fa eravamo nonna 300, ma eravamo 3000. e però quando ce l'andavamo lasciamo più pulito di quando eravamo arrivati. Come valutate questa decisione di far sgomberare il campo? Io sono contraria anche perché secondo me è una cosa più politica che pratica. Si poteva gestirla in maniera diversa. Comunque loro sono ancora qua, una parte di loro. Sono ancora qua ma dovrebbero sgomberare entro oggi, penso. E' un sviluppo anche per il paese, almeno per quei due negozi che abbiamo, sia il bar e il negozio in piazza, perché sono gli unici due aperti. Se poi chiudiamo anche quelli è finito il paese. Sono andato in cerca di firme, quando ho sentito che li stavano mandando via, c'è un 3-4 pagine di firme a favore di questa cosa qua, capito? Dunque mi pare una roba, non lo so, io la chiamo vergognosa. Questi allora i pareri che abbiamo raccolto quest'oggi. Andiamo invece a Pordenone dove c'è stato un nuovo blitz della polizia contro una banda di ladri albanesi, già tutti in carcere, colpevoli di una serie di furti nelle abitazioni. Trovate due pistole a Milano. La squadra mobile della questura di Pordenone prosegue le indagini su una banda di ladri albanesi, colpevoli di oltre 66 furti in abitazione tra Friuli e Veneto, tra il 2018 e il 2019, con un bottino stimato in oltre 2 milioni di euro. L'operazione della polizia, denominata Predoni, prosegue e dopo aver recuperato parte della refurtiva, gli agenti hanno ritrovato anche le armi che erano state nascoste dalla banda. L'ultimo ritrovamento sono due pistole, nascoste in un parco pubblico a Milano. L'attività investigativa, gli approfondimenti hanno consentito di poter individuare e contestualmente recuperare le uniche, le ultime due armi da fuoco, lo sottolineo, che mancavano ancora all'appello. In effetti, stante il fatto che sostanzialmente il capobanno, lo potremmo definire così, aveva un domicilio di fatto, vale la pena ricordarlo, qui in zona, nel periodo ovviamente interessato dalla perpetrazione dei furti e delle rapine in villa, mentre aveva poi un altro domicilio, una residenza nella città di Milano. In effetti, gli approfondimenti investigativi ci hanno portato proprio a Milano, dove anche con l'ausilio della locale squadra mobile e del commissariato Scallo Romana siamo riusciti a individuare la zona dove ritenevamo potessero essere occultate le armi, ovvero sia siamo in un quartiere residenziale, anche con edifici di nuova costruzione, siamo in un'area verde, un parco cittadino, non siamo in periferia, siamo in un parco cittadino e le armi erano occultate in dei panni e allocate nelle ramaglie, insomma in una siepe, di fatto non facilmente accessibile, ma sicuramente potevano essere trovate anche magari da ragazzini che avrebbero potuto farsi del male o peggio ancora essere riutilizzate da, se non naturalmente dagli stessi criminali che le avevano sottratte, comunque da altri e questo sicuramente è un risultato significativo sotto il profilo dell'incolumità pubblica. Torniamo subito con le immagini a Palmanova perché è arrivato Luigi Di Maio e dopo aver evitato il pressing di giornalisti e presenti ha fatto un po' un tour David nel luogo dell'evento e poi si è smarcato e poi ha preso la via dell'uscita, è andato direttamente in piazza spostandosi, quindi non so se in questo momento la nostra Monica Nardini ci sta ascoltando perché abbiamo visto che l'operatore ha seguito i passi di Luigi Di Maio in città, in questo momento non si trova all'interno del locale, ha dibito all'incontro, ha deciso evidentemente di fare due passi, è in piazza principale a Palmanova e Monica Nardini è lì, infatti la vedo inquadrata, pronta per dirci com'è andata questo arrivo di Maio, il vicepremier a Palmanova, abbiamo visto che avete provato a bloccarlo senza successo. Sì, è stato fulminio, è arrivato con l'auto, poi attraverso un percorso protetto dalle forze dell'ordine che hanno confinato la stampa in un angolo ben preciso senza poter ovviamente approcciarsi al Premier, Premier che comunque è stato invitato ad avvicinarsi, a rilasciare un veloce commento, non c'è stato niente da fare, quindi per il momento Di Maio non ha desiderato rilasciare dichiarazioni, adesso è andato in un locale qua vicino a prendere, immaginiamo un caffè, a bere qualcosa, si è un attimo fermato e ovviamente le forze dell'ordine stanno monitorando il tutto e stanno ovviamente tenendo al riparo anche da noi giornalisti, visto che non vuole rilasciare un momento di dichiarazioni, il vicepremier Di Maio. Vediamo se esce, vediamo se nel corso della diretta comunque ci rilascerà comunque un commento, se cambia idea, ovviamente vi richiederemo la linea in tal caso. A voi. Grazie Monica, noi torniamo alla cronaca con un incidente a Castions di strada, grave un motociclista ma non solo, sentiamo tutte le notizie di cronaca dell'ultime ore insieme a Matteo Macuglia. Potrebbe esserci una mancata precedenza all'origine di un grave incidente avvenuto verso le 13.30 a Vivio Paradiso, frazione di Castions di strada. Un'auto ha travolto un motociclista che è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Udine con l'elisoccorso, illeso il conducente dell'automobile. La polizia locale lo ha montato per 300 euro mentre stava dormendo su un'amaca tra gli alberi della pineta di Barcola. E' successo un turista austriaco 52enne durante il pomeriggio di mercoledì. Dai social monta la protesta Amache Libere che sfocerà domani in un flash mob di solidarietà al turista multato. E' successo mercoledì scorso, un uomo di 71 anni ha sparato con una pistola a pallini contro dei giovani che stavano giocando in Via Latina a Pordenone. L'uomo avrebbe fatto fuoco nella loro direzione per tentare di allontanarli, denunciato per minaccia aggravata. Parliamo anche di altri incidenti però Davide, non solo. Sì, rientriamo in città Valentina a Udine con un investimento accaduto nel pomeriggio di oggi nel piazzale. D'annunzio per quanto riguarda il conducente di un veicolo, un'onda che percorreva il piazzale proveniente da Via Europa Unita, all'improvviso ha urtato un pedone che stava attraversando la carreggiata e l'ha travolto sul posto. I sanitari del 118, una pattuglia della polizia locale, l'uomo ferito, investito, è stato trasportato per accertamenti in ospedale. Ci spostiamo poi a Pontebba dove continuano, sono continuate anche oggi, le operazioni di spegnimento di un incendio che ha interessato i boschi della zona, il Monte Torre in particolare. Siamo sulla pagina Facebook della Protezione Civile in cui appunto si racconta anche con le immagini le operazioni di spegnimento che sono state portate avanti anche oggi e vedete proprio nelle immagini l'area dei boschi della monte che sono stati attaccati dalle fiamme, le attività di bonifica riprenderanno domani mattina. Chiudiamo con un ultimo aggiornamento che ci arriva dalla laguna di Grado e Marano con un soccorso da parte della Capitaneria di Porto nel pomeriggio odierno per un natante, una barca a vela che nei pressi di Portobuso è stato aiutato a rientrare per quanto riguarda proprio la Capitaneria di Porto dopo un momento di difficoltà da parte del comandante della vela che stava rischiando di finire in secca proprio nelle acque della laguna, nei pressi di Portobuso. E mentre stavamo dandovi queste informazioni appunto Luigi Di Maio è ritornato dal suo momento di pausa al bar, molti giornalisti hanno provato a fermarlo ma lui ha continuato imperterito il suo percorso e si è recato direttamente all'incontro con i militanti. Diciamo che Salvini è stato più mansuetto, si è fatto intervistare subito a Trieste. E' molto più social Salvini. Invece nella giornata di ieri il Senato ha approvato una nuova legge per combattere la violenza contro le donne. Tempi più brevi per attivare le forze dell'ordine, lotta al revenge porn e ai maltrattamenti in famiglia che sono i cardini del nuovo testo che rappresenta un tema diffuso anche in regione. Ne abbiamo parlato con la Presidente della Commissione Pari Opportunità di Udine, Anna Cragnolini. Indico la votazione nominale finale, modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Un'ottima notizia ragazzi, codice rosso è passata. C'è anche Michelle Unziker tra le promotrici di codice rosso. La nuova legge approvata ieri all'unanimità al Senato. Al centro di questo nuovo testo la lotta contro la violenza sulle donne. Il Parlamento ha approvato delle nuove fatti specie che permetteranno una più rapida attivazione delle forze dell'ordine in caso di violenza. Si sono definite le responsabilità, si sono scanditi i tempi e si sono date le definizioni alle diverse forme di violenza per la donna. Quindi la donna ha dei tempi scanditi che le consentono di poter fare denuncia e finalmente anche di poter pensare di fare denuncia perché sono fino a 12 mesi il tempo massimo che la donna ha per poter denunciare il suo maltrattante. Le forze dell'ordine non hanno più quella che prima era una discrezionalità di avvisare il pubblico ufficiale rispetto alla violenza ottenuta. Adesso il pubblico ufficiale deve essere avvisato entro tre giorni dalla dichiarazione di violenza. Inoltre la legge prevede il carcere da 1 a 6 anni per chi diffonde foto o video o contenuto sessuale senza il consenso di entrambe le parti. Il cosiddetto revenge porn è diventato tema di grande dibattito dopo il suicidio di Tiziana Cantone, giovane donna napoletana che si è uccisa dopo la diffusione in rete di alcuni video hard che la ritraevano. Aumentano anche tutte le pene già previste per gli altri delitti come i maltrattamenti contro i familiari conviventi con aggravanti quando la violenza sessuale è commessa a danno o in presenza di minori. Anche il Friuli Venezia Giulia ha dovuto fare i conti con la violenza sulle donne. Nel primo semestre in Friuli Venezia Giulia e nella fattispecie io parlo del nostro centro antiviolenza Zello Tolerance del Comune di Udine abbiamo rilevato un maggiore accesso che per certi versi può essere interpretato anche in senso positivo. Mi spiego. Il fatto che la donna sia più consapevole e più avvisata e informata sulle opportunità date anche dai centri antiviolenza può aver dato luogo a una maggiore coscienza e una volontà di esprimere la sofferenza dovuta alla violenza. Abbiamo parlato molto negli ultimi giorni di incrocio fra domanda di lavoro e specializzazione degli studi. Un nuovo master di eccellenza confezionato in base alle esigenze delle aziende friulane è stato presentato da Confindustria e dall'Università. Confindustria e Università di Udine alleate per preparare imprenditori classe dirigente del territorio è cucito su misura delle esigenze delle aziende friulane l'Executive Master in Business Administration che sarà avviato a novembre. Rispetto ad altre iniziative analoghe il master friulano presenta diversi elementi di originalità tra cui la personalizzazione dei corsi con metà del piano di studi che sarà plasmato di anno in anno in base agli interessi dei corsisti. Un altro elemento distintivo è il fatto che si tratta di un master non erogato da una business school, bensì dall'università coniugando l'alto profilo della docenza con costi ridotti. Se vogliamo sviluppare le competenze del nostro territorio, se vogliamo evolvere come regione dobbiamo prendere ciò che di buono c'è e aumentarne il valore. Sappiamo che i nostri imprenditori sono già degli eroi perché nonostante la situazione avversa, nonostante il deficit competitivo che attanaglia il nostro paese, il friuli Venezia Giulia riesce a mantenere una posizione medio alta all'interno della media italiana. Per questo motivo quindi abbiamo svolto un'indagine all'interno dei nostri associati e abbiamo chiesto quali possono essere le competenze all'interno delle quali non vi sentite sufficientemente preparati e quindi abbiamo iniziato a discutere con l'università per capire come colmare questo gap e da lì ne è uscito un executive master in business administration customizzato esattamente su quelle che sono le esigenze dei nostri imprenditori e anche sull'esigenza di questa formazione continua che il giorno d'oggi ci pone. Andiamo fuori Regione però con un coinvolgimento anche di personalità udinesi. In questa giornata, in questo pomeriggio si è diffusa la notizia di un'inchiesta della Guardia di Finanza delle Marche sulla sanità marchigiana appunto che avrebbe visto coinvolto anche la GSA società friulana. Per quanto riguarda Alessandro Pedone per il tramite del suo avvocato Luca Ponti spiega di non aver ricevuto nessuna informazione di garanzia, di non aver subito alcun atto di cautela, perquisizione o sequestro e che stanno a quanto si legge sui giornali locali avrebbe interessato gli indagati. Questa è la dichiarazione appunto del legale Ponti. Adesso noi ci fermiamo per un rapido break, torniamo fra pochissimo con la pagina sportiva. Tra poco. Vi ritrovate in diretta. Andiamo subito in estera con un nuovo collegamento. Siamo con Jacopo Romeo dalla Dacia Arena per commentare una giornata intensa per quel che riguarda il mondo bianconero, lo svelamento della terza maglia, la firma di Cristo Gonzales, tanti argomenti quest'oggi. Ben ritrovato Jacopo. Abbiamo qualche problema con il collegamento, vediamo di perfezionarlo. Ritorniamo allora a Palmanova dove c'è la nostra Monica Nardini per capire qual è la situazione dell'incontro con Luigi Di Maio e i militanti del Movimento 5 Stelle. A te Monica. Sì, la situazione è che l'incontro qui all'auditorio San Marco sta per iniziare e anche che Luigi Di Maio ha confermato per il momento la volontà di non rilasciare nessuna dichiarazione a noi giornalisti. Abbiamo ovviamente chiesto più volte un velocissimo commento ma per ora niente da fare. È entrato mentre si stanno riunendo gli ultimi antiattivisti, rappresentanti del Movimento 5 Stelle sul territorio per questo incontro, per questa tappa di Di Maio nel territorio regionale volta come le altre tappe che ha già avviato nel resto d'Italia a riflettere, a parlare, a confrontarsi sulla riorganizzazione del Movimento. Vediamo se a breve magari ci ripenserà ma dubitiamo che al momento sia possibile rilasciare un suo commento. Sono arrivati tra i vari referenti anche Sabrina De Carlo, la deputata, Vincenzo Zoccano, il sottosegretario e anche Marco Zullo, l'eroparlamentare. Tra i vari rappresentanti ci sono ovviamente anche loro. Da qui è tutto, a voi la linea. Grazie, grazie Monica. E adesso invece continuiamo con la pagina sportiva nell'attesa di ascoltare Jacopo Romeo della Dacia Arena. Ci sono delle news che vediamo tramite il web. Davide. Sì, è una notizia che arriva dal Tribunale della Federcalcio che proprio quest'oggi ha errorato cinque anni di squalifica e la preclusione a ricoprire qualunque ruolo in ambiti federali all'ex paron del Palermo, Maurizio Zamparini. La decisione, scrive Lanza, arriva nel merito della vicenda che era costata alla rosa nero la retrocessione Serie C poi trasformata in 20 punti di penalizzazione nello scorso campionato cadetto per irregolarità amministrative. Per quanto riguarda il mondo del web dello sport in particolare Valentina vediamo anche la notizia di un nuovo acquisto sul fronte del Tavagnacco Calcio la formazione che si appresta a disputare un nuovo campionato di Serie A ebbene il terzo colpo arriva la britannica Kandarana è una nuova giocatrice del Tavagnacco come leggiamo sul sito della società e pesca ancora all'estero la società per rinforzare la squadra proprio in vista del prossimo campionato di Serie A sarà il diciannovesimo consecutivo per la società guidata dal presidente Moroso. Questo quindi il nuovo acquisto del Tavagnacco adesso invece noi andiamo ad ascoltare le parole del presidente della Lega Serie B Balata che abbiamo sentito quest'oggi. Vediamo. Presidente Balata, una visita qui alla Dacia Arena anche perché sarà questo lo stadio che ospiterà le gare interne del Pordè non è neopromosso in Serie B nella prossima stagione. Ecco, il primo impatto per lei con questo impianto visto che è la prima volta che viene a visitarlo? È un impianto fantastico veramente un esempio di architettura infrastrutturale calcistica che dà lustro al nostro paese, non c'è dubbio e quello che dobbiamo fare nel calcio, in tutto il movimento è proprio cercare di agevolare questo genere di progetti per far crescere tutto il movimento insomma e sono anche orgoglioso di poter accogliere nel nostro campionato la società del Pordenone, il presidente Lovisa che giocheranno in questo meraviglioso tempio ma che hanno anche un progetto calcistico anche di natura infrastrutturale molto importante e molto virtuoso e noi cercheremo di aiutarli e di stare vicino a loro come a tutte le nostre società. Come appena detto lei, l'auspicio e l'augurio e già il Pordenone si è mosso e sta lavorando all'alacramento in tal senso per avere un impianto nella città però quanto può essere importante il fatto che la prossima stagione la squadra giochichi in questo stadio anche come ritorno d'immagine per la sua Lega e per il suo campionato? Beh, indubbiamente è una cosa importantissima in uno stadio del genere ovviamente il calcio viene sublimato lo spettacolo viene sublimato dopodiché però bisogna fare una riflessione diciamo di natura generale e capire che effettivamente questo grande progetto che si vuole portare avanti di miglioramento infrastrutturale del sistema calcistico deve essere avviato attraverso una serie di programmi e di progetti che stiamo cercando di portare avanti che abbiamo già portato sul tavolo del governo che abbiamo portato sul tavolo della federazione e di cui a breve informeremo tutte le società abbiamo le idee molto chiare da questo punto di vista Questo quindi è quello che riguarda il Pordelone e la Serie B alla Dacia Arena invece Davide ritorniamo in Serie A e ritorniamo alle nuove maglie dell'Udinese perché oggi c'è stata questa bella anteprima in esclusiva della terza casacca che vestirà l'Udinese nella prossima stagione E sì Valentina partiamo proprio da qua ve le abbiamo svelate in diretta nell'edizione delle 16 la terza maglia 2019-2020 dei Bianconeri la vedete in queste immagini una maglia realizzata da Macron sponsor tecnico del club che appunto ha scelto un elegante grigio antracite arricchito da un fine rigato e da dettagli arancioni la nuova casacca avrà un collo alla coreana con bordi grigi in maglieri e le grigie sono anche le maniche con i bordi più scuri il disegno grafico presente sulla parte anteriore della maglia è composto da fine righe verticali in grafica imbossata tono su tono il disegno stilizzato è ripetuto dall'alto verso il basso del profilo delle montagne e poi c'è anche la scritta che recita i primi bianconeri d'Italia mentre sul petto a destra in arancione il Macron Hero il logo del brand italiano a sinistra invece lo stemma dell'Udinese Calcio e poi un'altra novità importante quest'oggi è il colpo in chiave mercato della squadra bianconera perché ha firmato per 5 anni Cristo Gonzales se ne è parlato molto in questi giorni lo abbiamo annunciato noi durante il nostro Tonight del lunedì sera tramite le parole di Michele Criscitiello oggi è arrivata finalmente la firma Sì, siamo sul sito della società bianconera dove c'è proprio la foto con lo scatto che in Mortala il nuovo acquisto con la sciarpa della società sarà un attaccante bianconero fino al 2024 i termini della firma con Cristo Ramon Gonzales Perez giovane e talentuoso attaccante proveniente da Real Madrid che ha firmato il contratto di 5 anni e arriva in Friuli a titolo definitivo reduce da 32 gol nelle ultime due stagioni disputate nel Real Madrid Castiglia di cui 21 messi a segno nella scorsa annata è nato a Tenerife classe 97 è iniziato a giocare a calcio nel settore giovanile proprio del Tenerife e dunque per lui sicuramente un'ottima chance con i colori bianconeri perfetto grazie allora Davide questa era la nostra ultima notizia noi ci fermiamo qui però il notiziero ritorna sempre in diretta alle 22 e 30 vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata e ci fermiamo di musica di musica di musica Grazie a tutti.